Riapre lo storico rifugio Chalet Corsini a Montenerone, luogo di rinascita per tutto il nostro introterra. Sì, veramente questo qui è una giornata per noi eccezionale, l'aspettavamo da quattro anni, da quello che è successo quella volta, oggi veramente per noi è una giornata molto bella. Siamo stati gratificati anche dalla presenza di tanti amministratori, amministratori dalla regione, la provincia, i sindaci del territorio, le unioni montane. Quindi vuol dire che abbiamo fatto una cosa importante, importante per il territorio. Abbiamo lanciato le basi, secondo me non è questo qui un punto di arrivo, ma è un punto di partenza per la rinascita, per lo sviluppo turistico del Monte Nerone. Abbinare la montagna, la natura col buon mangiare penso che sia stata un'ottima idea. Abbiamo cercato di costruire un rifugio green. Qui oggi abbiamo inaugurato un rifugio che non è soltanto un luogo dove si farà, è una gastronomia dove si farà accoglienza turistica, è un simbolo, perché è partito da una grande tragedia di quattro anni fa andando a fuoco e il fatto che oggi si riapra, anzi si rilanci questo luogo meraviglioso con una struttura nuova, con tutti i comfort e in grado di essere la miglior struttura ricettiva della zona è sicuramente un messaggio positivo di cui le aree interne hanno bisogno. È un esempio da seguire e per noi è davvero un grande piacere essere qui oggi e inaugurare una cosa che rimarrà nella storia. Può davvero ripartire il piacere di venire a fare turismo qua nelle aree interne e questo è un fatto positivo che noi vorremmo portare avanti con anche riforme legislative come quelle che stiamo facendo sui borghi e cercheremo anche utilizzando i prodotti locali come la birra e alcuni prodotti che identificano queste aree di farlo diventare un turismo che vada di moda così come deve tornare un luogo dove si vive bene e dove c'è grande qualità della vita.